È terminato in tarda serata il primo consiglio dell'era Petrangeli Bis, la cui seconda parte è stata dedicata alla ZTL e alle strategie adottate dall'amministrazione comunale in fatto di viabilità. Prima dell'approvazione del piano c'è un lungo periodo di sperimentazione ed è evidente sul piano logico che durante il periodo della sperimentazione è impossibile modificare l'oggetto sperimentato. Noi abbiamo progettato un piano, lo abbiamo applicato e sperimentato ottenendo il consenso e l'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo i tre mesi di sperimentazione, continua l'assessore. Noi possiamo produrre delle modifiche purché siano temporanee e quindi non mettano in discussione il piano nella sua complessità. Ai commercianti e residenti, prosegue Ubertini, con i quali abbiamo sempre colloquiato, abbiamo costantemente evidenziato che siamo aperti a correzioni e modifiche purché non si metta in discussione il piano. Dopo il consiglio comunale si è deciso per un'apertura di via Cinzia per agevolare la fruibilità di uffici, banche e attività commerciali attraverso un'ordinanza sindacale. Un'apertura dalle 9 alle 14, la mattina, dal lunedì al venerdì, con la disponibilità di piazza Cesare Battisti, il parcheggio che oggi è inibito, fino all'inizio dei lavori del Plus. Nessuna retromarcia dunque, ma una proposta da parte dell'amministrazione comunale per quanto concerne il famoso ammorbidimento, del quale ha parlato spesso nel corso della trasmissione serale di RLTV il fatto, l'assessore Ubertini. Ora questa proposta dovrà essere accettata dall'ASCOM. Noi abbiamo avuto un dialogo serrato con i commercianti e con anche la classe politica. Io ripetevo a loro oggi che c'è stato un dialogo anche con l'opposizione, con la società politica nel suo complesso, perché la mia cultura è una cultura di inclusività, di partecipazione. Ho puntato a una massima condivisione del progetto. Ho portato il progetto in commissione, pur non essendo dovuto, perché trattasi di materia di giunta. E lì, tanto per quanto riguarda la società politica espressa dalla maggioranza e dall'opposizione, quanto per la società civile rispetto a tutti gli attori, c'è stata inizialmente una condivisione di fondo del progetto. L'ordine del giorno, approvato con 17 voti favorevoli e 4 contrari, impegna sindaco e giunta a rilanciare la proposta già formulata in precedenza dalla stessa amministrazione comunale all'ASCOM. La maggioranza sarebbe dunque tornata alla compattezza, quella che era mancata prima dell'azzeramento della giunta.